L'ospedale San Salvatore dell'Aquila ha finalmente una sua TAC dedicata per i pazienti covid. Si trova nell'edificio del G8, una cerimonia sobria per l'inaugurazione della nuova TAC, la presenza dei vertici della ASL e di rappresentanti istituzionali. Con l'acquisto di questa TAC dedicata si torna alla normalità in un certo verso perché le altre TAC potranno essere utilizzate per i loro scopi tradizionali. Oltretutto la nuova TAC, in una struttura comunicante con il G8, ha un percorso completamente separato e protetto. Il professor Carlo Masciocchi, primario di radiologia, ha illustrato i benefici dell'acquisto di questa nuova TAC tecnologica e delle grandi prestazioni. Da quando è iniziata la pandemia abbiamo comunque sempre studiato i pazienti affetti da covid senza problemi, avevamo fatto un percorso dedicato utilizzando le altre TAC che avevamo. Però ovviamente questo ha determinato dei rallentamenti nell'attività perché uno spazio era riservato ai pazienti covid. L'arrivo di questa TAC invece rifluidifica tutto il percorso di prima, quindi riprenderà spazio la diagnostica dei pazienti oncologici, cardiologici eccetera e questa TAC sarà riservata esclusivamente proprio allo studio di questi pazienti. Per il manager Roberto Testa la regione ha fatto un investimento molto importante che permetterà di tornare anche un po' alla normalità per quanto riguarda l'utilizzo delle altre TAC. È un'attac particolare che ha un sistema di tecnologia di diciamo di intelligenza artificiale che aiuta ulteriormente all'analisi, allo studio e soprattutto alla diciamo così alla previsione di quello che può essere l'evoluzione della patologia in questi pazienti. È importante un'attac dedicata per questi pazienti soprattutto perché ci consente di utilizzare le ulteriori TAC presenti presso il San Salvatore esclusivamente appunto per l'ordinaria attività.